La ricerca scientifica Sì, è nostra, comparte dell'esperimento per quel di A IA? IA, l'intelligenza artificiale, volevo provare ad alimentare l'energia contenuta l'arca No, ad alimentare l'IA con l'energia contenuta l'arca Ma posso dare la faria? No! 7 marzo 2017, sono il dottor Refez, divisione armamenti e ricerca... Eh, che cazzo! Maronna, che male, cazzo! Registriamo questo video, proviamo a spedirlo fuori con una trasmissione ad alta frequenza Vediamo cosa succede, sto cazzo! Perché allora potrei anche darci più piano, cazzo! IA? Sì, IA, intelligenza artificiale Non è nulla! Non è nulla! Voi provare a cadere Facciamo un po' di filamento veloce Perfetto! Trasmissione esterna Speriamo che questa cosa Concentrazione Allora Porca trasmissione! Porca trasmissione! Meglio di così, non riesco a farlo Cos'è che devo dire io? Cristo! Della lusia umana sulla natura inclemente Io avevo... Allora Allora Sì, potremmo reindirizzare la flu... Credo di poter reindirizzare il flusso di antimateria nei flussi di contenimento Del flusso del flusso del culo del cazzo I canali di funzionamento Dovrei poter invertire il funzionamento del coso, no? Ma per fare scena, no? Quando si sarà risolto tutto Beh Beh Questa riesce bellissima Il beh, come dici dentro Le occhiali in costa hanno visto recitare La terza cosa è che la patata modificata in... Cristo! Che la patata modificata in laboratorio geneticamente Riesce a... Cristo! La terza notizia è che la patata modificata... Sulla natura implemente, io avevo proposto... Cosa? Il progetto è proletario! E se reindirizzassimo l'energia di alcuni moduli del laboratorio al... E se reindirizzassimo l'energia di alcuni moduli del laboratorio al... Possa essere ricevuto anche da chi non ha una batteria di satelliti grande come... Una batteria di satelliti grandi come l'imbarazzo che si prova a guardare... E la prima volta che abbiamo spedito dei meccanismi di teletrasporto nel culo del cazzo del merda Va fatto un controllo sui condotti di antimateria E il dottore... E il dottore... Cazzo! Ma guarda te! Ma guarda te! Ah no, non ci siamo! Dobbiamo... Liberatorio però... Le puntate dureranno 5 minuti... I tagliati... 14 ore fanno i talisti... Ok... Però non li mettono i tagliati eh... Vai tranquillo...